oggi facciamo un bel giro in bicicletta sulla pista ciclabile dell'alta val di non il giro che faremo oggi è un giro d'anello noi abbiamo parcheggiato la macchina in questo punto prima di salter poi andremo verso salter cavarino proseguiamo verso ronzone malusco fondo una puntatina al bellissimo lago smeraldo e poi ritorno dall'altra parte arrivando a romeno e di nuovo al nostro punto di partenza il fornimento di acqua bella fresca alla fontana di romeno arrivati a cavarino in questo punto non ci sono tante indicazioni allora per non sbagliare come abbiamo fatto noi che siamo scesi in paese si deve prendere questa via qua in salita purtroppo in salita si arriva via alpina e si sale possiamo andare e speriamo di non sbagliare più strada abbiamo ritrovato la segnaletica evviva in salita siamo arrivati a fondo abbandoniamo momentaneamente la pista ciclabile per dirigerci verso il lago smeraldo siamo arrivati a questo affascinante lago il lago smeraldo ora faremo una passeggiata attorno al lago e anche la passeggiata del burrone da qui ora iniziamo la passeggiata del burrone è una comoda passeggiata suggestiva e anche fresca entriamo in una forra scavata da rio sas questa camminata si snoda su passerelle e scale metalliche la breve ma bella passeggiata del burrone termina al paese di fondo ora facciamo ritorno al lago sullo stesso percorso lasciamo ora il lago smeraldo e ci dirigiamo di nuovo verso fondo per prendere la pista ciclabile ora facciamo ritorno al lago sullo stesso per prendere la pista ciclabile siamo arrivati a conclusione del nostro giro in bici siamo arrivati a conclusione del nostro giro in bici la pista ciclabile che abbiamo fatto è veramente bella è asfaltata tutta asfaltata segnalata anche molto bene solo in un punto abbiamo avuto un po' di problemi il paesaggio è molto vario si passa dalla campagna ai bei paesini e a qualche tratto nel bosco visto che i chilometri dell'itinerario in bici non sono molti vi consigliamo di fare anche la breve passeggiata al lago smeraldo e al canyon qui ora noi vi salutiamo e come sempre vi diamo appuntamento alla prossima ciao